o è già partito il video perfetto nel allora questo è il materiale per la fiera campagna libri festival quest'anno dal 4 al 6 ottobre domenica 6 ottobre c'è anche la presentazione del mio romanzo che si chiama guardiani della natura all'ultimo distintivo edito con ali di belli questo è il materiale promozionale che verrà regalato a chi comprerà il libro in fiera che cosa comprende il materiale promozionale c'è questo file qui che adesso cerchiamo di mostrare in maniera un pochino più carina che è uno stampato una 3 chiuso a 4 dove all'interno c'è il gioco che si chiama guardiani della natura alla scoperta del futuro sostenibile ed è un gioco realizzato sulla base degli obiettivi dell'agenda 2030 è pensato un po come il gioco dell'oca mixato con domande trivia pursuit prese ovviamente dall'agenda 2030 è un gioco che si gioca con i dadi ovviamente un percorso gioco dell'oca quindi si mettono qui i cosini come si chiamano i segna persone e ci sono delle carte le carte sono queste la carta catra musa la rischio gialla verde azzurra e marrone che riguardano alcune tematiche ambientali la rischio è una carta molto divertente è una carta fortuna si lancia il dato in base a quello che esce col dato hai un bonus o un malus una punizione oppure un vantaggio creata proprio per divertire la carta catra muso ovviamente parla di inquinamento le altre parlano di questioni ambientali tranne la gialla che riguarda questioni sociali perché dovete sapere che purtroppo le crisi climatiche vanno a colpire i paesi più poveri le persone più svantaggiate il discorso lo sapete i ricchi detengono la maggior parte della ricchezza e sono l'uno per cento i quelli che stanno bene o comunque che stanno male il restante della popolazione il 90 95 per cento ovviamente non controlla nulla e non decide nulla e quindi è svantaggiata le cartoline le cartoline nel romanzo chi comprerà il romanzo in fiera o anche direttamente dalla casa editrice avrà in omaggio due cartoline questi due personaggi uno è rino e l'altro e gala sono due personaggi che realmente esistono all'interno del romanzo vengono diciamo incontrati alla lontana dal protagonista in un momento particolare ed è una visualizzazione di come potrebbero essere fatta tempo fa da un artista che mi fece il piacere e l'onore di disegnare e realizzare queste figura queste personaggi la cartolina è pensata così con il front e il retro che è una cartolina di ringraziamento dove c'è scritto complimenti bla 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 e ci sono dei timbri in questi timbri è nascosto un segreto un giorno lo svelerò ma è molto difficile da scoprire chissà magari un giorno se ne parlerà anche di questo invece come cartolina promozionale c'è questa qui che è fatta fronte reto da una parte c'è la copertina del libro ovviamente dall'altro c'è una presentazione con un doppio qr code questo qui è quello per comprare il libro su amazon ovviamente anche in versione ebook e pub kindle quel che è mentre questi sono i primi due capitoli che si possono leggere free i primi due capitoli che si possono leggere free si possono leggere sul mio sito sul sito del dell'editore sul amazon veramente ovunque e niente questo è il materiale dopo domani si comincia spero che passi molta gente gente a trovarci allo stand 38 di ali ribelli e sarei molto contento se passassero anche delle maestre degli educatori delle persone che si occupano di tematiche ambientali perché il gioco è pensato da ambientalista quale sono per tutte le persone che hanno a cuore le sorte del pianeta e come c'è scritto nella dedica del libro che ormai ho spoilerato più volte ogni giorno è buongiorno per cominciare a essere un supereroe per fare la differenza ma soprattutto il libro è dedicato a tutti coloro che da soli non possono far valere i loro diritti che ovviamente oltre agli svantaggiati bambini gli ammalati allettati diciamo le persone sicuramente gli ambienti degli animali sono quelli che più di tutti soffrono della nostra ingerenza senza poter far nulla noi vi aspettiamo 6 ottobre per chi volesse far parte della chiacchierata che faremo domenica mattina io e l'editore parleremo poco del libro a me non mi piace fare le cose autocelebrative parleremo molto parleremo molto di ambiente parleremo dei motivi per il quale ho scritto questo libro perché è importante diffondere queste cose certo oggi dopo anni di greta thunberg e altro attivismo giovanile sono tematiche più diciamo sdoganate però credo che sia ancora molto importante parlarne in tutti i modi possibile io col mio romanzo spero di poter dire qualcosa poter dare qualcosa poter trasmettere qualcosa di un po più profonda e oltre ovviamente il piacere di leggere una storia allegra che si ispira dei supereroi il motivo per il quale si ispira dei supereroi è perché amo i fumetti di supereroi e anche perché ho cercato col mito moderno del supereroe un po come l'antico divinità o semi di divinità dei greci o altre culture del passato erano quelle persone particolarmente dodate alle quali gli si chiedeva quello sforzo estremo che nessun altro poteva fare che è un po quello che sembra servire al giorno d'oggi per cercare di risolvere la crisi climatica questo è tutto grazie alla prossima ci vediamo il 46 ottobre se vi va stand 38 ali ribelli grazie